Ciao a tutti, io sono Liam da Chimera Wargaming e oggi vi farò vedere un unboxing dei nostri carissimi e bellissimi Night Hunt, gli infestatori della notte. Questo è sempre il mio primo esercito e praticamente, naturalmente se vi piace il video mettete un like, un bel pollice in su e iscrivetevi al canale cliccando sul tasto iscriviti e sulla campanella così non potete perdervi le nostre notifiche. Allora, intanto qua ti fa vedere tutte le foto qua dietro ci sono anche tre foto dei nostri Night Hunt che vi fa vedere come devono essere pitturati ci sono anche dei colori inclusi e apriamo la scatola perfetto, ho uscito i colori dalla scatola che sono questi sei uno, due, tre, quattro, cinque, sei bene ehm 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 anche fuori anche fuori di qua di qua se apriamo questo vi dice i vari procedimenti allora prima bisogna passare la celeste a grey poi il Night Hunt to Gloom il Genox Hide in QV Darkness per fare la cappa le Blacker ehm e Rikland Flesh Hide che poi Rikland Flesh Hide ehm è una lavatura potete usare anche altre lavature come ho fatto io nell'altro video non ho usato proprio Rikland Flesh Hide ho usato un'altra lavatura questa è la star grey Rikland Flesh Hide il Blacker ehm in QV Darkness Rikland Flesh Hide e e il Night Hunt to Gloom comunque vi è i colori vi faccio vedere gli sprue ci sono le basette già incluse gli accessori sono facilissimi da montare voi li togliete cercate l'altra parte e li unite facilissimo poi ci incollate incollate la basetta e li incollate nella basetta e li incollate anche gli accessori ehm vi raccomando ragazzi non vi consiglio la colla a caldo per nessun motivo no 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 non ve la consiglio ci sono altri tipi di colle naturalmente non la stick però potete usare altri tipi di colle con la caldo no perché si squaglia lo sprue ehm vabbè questo è tutto sono naturalmente dopo Age of Sigmar questo è tutto comunque ragazzi spero che vi siete divertiti in questo video nel prossimo video pittureremo il cimitero e questi Night Hunt proprio gli nuovi sprue questi qua sono azzurri che sono quelli nuovi di solito erano grigi e spero che vi sia divertiti in questo video e ci vediamo in un altro video ciao ciao ciao